Sindaco, presto Teramo avrà il suo primo McDonald's, l'ultimo atto amministrativo si è concretizzato e adesso è solo questione di tempo per l'apertura. Sì, insomma oggi con la firma e la sottoscrizione della revisione della Convenzione sulla gestione del parcheggio su cui insisterà il McDonald's con costruttori terramani si chiude la fase e amministrativa in capo all'amministrazione abbiamo lavorato nel corso di questi mesi in modo importante cercando di raggiungere questo obiettivo che è intanto un obiettivo di riqualificazione del parcheggio della sua funzionalità non solo legata all'operazione McDonald's ma anche alla connessione centrale del parcheggio con la città, con l'aria urbana, con il parco fluviale anche per una sua migliore funzionalità e verrà messa anche a servizio una quota di parcheggi per la città stessa. Ed è ovvio che questa operazione è un'operazione che dimostra con l'investimento che McDonald's ha voluto mettere in campo su Teramo Città Capoluogo come la nostra città abbia recuperato attrattività per gli investimenti, non solo McDonald's ma tanti investimenti che sono stati fatti nel corso di questi anni dobbiamo migliorare, fare sempre di più e rendere sempre più attrattiva una città che ha costruito un percorso da qui ai prossimi anni grazie agli investimenti che abbiamo ottenuto che rendono oggi Teramo un riferimento attrattivo anche per figure importanti nel panorama nazionale e internazionale. È giusto immaginare un'apertura già per l'estate? L'apertura per l'estate la vedo complessa, l'inizio dei lavori molto più verosimile considerato che anche per le esperienze pregresse i tempi dei lavori sono molto rapidi, molto veloci quindi non parliamo di tempi lunghi. Ovviamente non mi va per serietà dare una tempistica definita di certo saranno tempi molto celeri.